Importante risultato per la Dynamic Fitness Palo del Colle che ha vinto il terzo titolo italiano Master Cross. Sui prati di Chieti la società del direttore tecnico Vincenzo 32 ha ottenuto l'ennesimo titolo italiano, conquistato a quota 1.088 punti, superati così i rivali di sempre dell'atletica paratico con la Downy Running, saldamente sul terzo gradino del podio ormai da ben quattro stagioni. Secondo 32 ormai la Puglia da quasi cinque anni è entrata nell'elite italiana Master confermando sul podio due squadre, appunto la Dynamic Palo del Colle e la Downy Running. Dopo anni di dominio delle squadre del Nord adesso finalmente la Puglia può dire che c'è. L'auspicio del tecnico è quello di vedere anche qualche squadra femminile ripetere gli stessi risultati colti dagli uomini. Questo è il riepilogo della classifica baschile, Vitonto Running al dodicesimo posto, amici di Marco al quindicesimo, in quella femminile la Downy Running si è classificata all'undicesimo e la Nadir on the road putignano al sedicesimo. Per quanto riguarda i campioni individuali, vincono il titolo di categoria Davide Raineri e Abelkrim Bobalik della Downy Running, insieme con Paolo Donati della stessa società, poi Leonardo Serena dei Saraceni di Lucera e Vincenzo Mirizzi dell'Atletica Bitrito. Per quanto riguarda infine i piazzamenti d'onore, da segnalare le prestazioni di Fiorenzo Mariani per la categoria Senior Master 45 e di Domenico Caborale, bronzo nella categoria Senior Master 55, entrambi gli atleti della Dynamic Palo del Colle.